Coach Paciaroni a Firenze, Welfi 26, Titans 14, partita tiratissima anche se non sembrava così a metà spenta. Assolutamente, secondo me abbiamo fatto un primo tempo ottimo, anzi fin troppo buono, siamo rientrati di spogliatoi un pochino spenti probabilmente, siamo già convinti che la partita fosse finita e quindi una volta rientrati siamo rientrati, abbiamo lasciato la testa sotto la doccia, l'abbiamo pagata abbastanza cara, in questo sport succede di entrare senza convinzione, un po' rilassati, una squadra che non era assolutamente finita, l'abbiamo pagata abbastanza cara, comunque alla fine abbiamo entrato fuori l'orgoglio, un minimo anzi, una certa differenza tra le squadre comunque c'era, abbastanza chiaramente, l'abbiamo dimostrato portando a casa la partita. Adesso una nuova sosta prima del derby contro gli Storms Pisa che ieri hanno battuto Bologna e hanno la prima vittoria stagionale per l'orgoglio. Assolutamente, viene abbastanza a paguolo la sosta perché abbiamo bisogno di recuperare diversi giocatori, dobbiamo riordinare un pochino le idee, cercare di preparare al meglio una delle partite più importanti perché Storms abbiamo visto sono una bella squadra, sono in crescita, stanno costruendo un bel campionato, secondo me sarà una delle partite più dure. Grazie coach, alla prossima. Alla prossima.